dai ma non può essere ok ce la sto facendo ce la posso fare ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video oggi siamo in un altro episodio degli aircraft già è cominciato adesso vi spiego un po' abbiamo fatto un video abbiamo fatto appena appena un video ma action mi ha dato un errore se è chiuso tipo un errore 104 critical error non lo so se è chiuso e se non ho più il video non posso fare più niente però in chat potete vedere quante volte siamo morti ecco qui lui si è tippato da me però potete vedere quante volte siamo morti tra l'altro possiamo notare come sono di nuovo bloccato nei momenti tristi eh si potremmo vederlo entri ragazzi ci dispiace ma continuiamo così anzi prima facciamo l'anteprima la mettiamo come intro vediamo dai no perché ce l'ho riuscito allora aspetta concentrazione ok dai aspetta aspettiamo altre 15 secondi così dai però tu mi prendi un giro ti giuro pare che lo faccio apposta allora aspetta in questo momento sto facendo 4 FPS sto giocando con un martello a vapore oh ce l'ho fatto aspetta aspetta perché qua c'è l'altro pezzo due blocchi erano due blocchi soltanto ma perché questo po' quanti sono questo po' è tipo mezzo uno e mezzo due e mezzo uno e mezzo boh non lo so teoricamente sono due in diagonale dai no sai di se maestro ragazzi io continuo dai no ah ragazzi se volete vi porto gameplay così senza la mano vediamo vedetelo voi quale mano? la mano che ti vedi secondo te è più bello senso con boh oddio aspetta per se oddio dove sono? prova che dai no basta vabbè metto con così si possono vedere gli FPS anzi lo metto off tantissi cazzi dai ok da qua basta non ce la faccio più no no cioè allora non solo mi sono tippato ma pure mentre tu saltavi e sono caduto mentre tu capo no 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 fermo fermo allora piano no puttana mi sento dai no dai come ho fatto a morire? che come ho fatto? dove sono? oddio guarda io no no di nuovo in quel punto no nob dai no senti io non ce la faccio ci rinuncio mi scuso ma ok no niente dentro case dentro case dentro case ma come faccio a saltarla? dentro i posti di boh? niente ho fatto il checkpoint entro perturbo dove sei? no laggo infinito sono tornato giù guarda dai questa qua è la puntata dei tpp e vabbè caddo di nuovo dai ragazzi ui tch ui ok figo 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 speriamo che adesso non si blocca di nuovo action no dio mio oi oi che è successo? ok niente a posto dove sei? non lo so tu che dici? no dai potrei odiarti infinitamente so ok dai scherzavo no ma che ho la fame sei tipo no bambino dell'africa ho la fame che vuol dire? no dove sono? ok qua checkpoint no io pure voglio esserci no dove sono? no allora senti qua questa parte la fai tu guardalo non riesco a muovermi ti giuro ragà per avere massimi fps metto due di visuale così l'avete bella fluida anche io la vedo bella senti io devo andare avanti dei tpp scusami ti giuro dai però non ti giuro metterlo pure tu dai dai stanno morendo un menu più vece che cosa ho detto? eh eh infatti dai non lo dovevi dire aspetta e ora? ti giuro non riesco 2 fps ma che faccio giocare? 2 no sta cadutissimo basta io mi uccido oh no non ci credo di nuovo questa parte no sali dal tubo non me lo chiudere in faccia cazzo ci stava no sì vabbè tanto non riesco a salire manco il tubo dai guarda dai il tubo ok allora con calma calma e descrizione no basta dai dai ma non può essere dai ok ok ce la sto facendo ce la posso fare dai no te l'ho volto dai dai no di nuovo ci sono riuscito no no dai guardala addio che bello vai avanti per favore questo video non lo faccio soltanto così no ciao no non lo so cadere solo io ah no sono caduto solo io ciao dai no non posso cadere solo in tre io ringrazia che è l'acqua non ti posso chiudere così in faccia ok vai chi è sotto adesso ciao no bastardo no ragazzi vabbè cazzo per me può continuare io mi faccio qualcuno faccio un più veloce è vero allora aspetta perché ora c'è quest'altro dai basta no vabbè io ti aspetto che nabbi vado ho fatto due fail in una parta sola questo sarà il più bello no ronata dove sono dove sono vai ma dove mi trovo perché sto qua ma dove sei guardami sei tipo in gabbia dai se vuoi ti permetti what the fuck ma dove sono no 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 io pure ma fa un tempo si c'è ora di fare trasporti credo dove dove siamo vabbè ragazzi questo era un video cazzeggio esattamente spero che non sei registrato la prima parte stiamo continuando a morire è ricaduto comunque ragazzi se questo video vi è piaciuto vi lascio a commentare a mettere un mi piace e seguirmi cioè iscrivervi proprio di persona stalker ahia no ma basta perché non riescomo a guardarmi d'oro e niente ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video dai non l'angolinos ci vediamo in un prossimo video ciao ciao adio